ospedale di pesero il ritrovato reparto di pediatria gabice ancora senza guardia medica insorge il pd vecchio palas alle vie lavori per l'ultimo miglio segnalazioni continuano gli sconfinamenti dei cinghiali che cozzalone alla vitrifrigo arena con amore più iva una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova edizione di rossini news telegiornale di oggi venerdì 14 aprile che apriamo con alcune notizie di sanità ieri le nostre telecamere vi hanno mostrato il punto nascite dell'ospedale di pesero tornato a regime da dicembre dopo tre anni di chiusura a causa della pandemia nelle servizi invece con cui apriamo il telegiornale di oggi andiamo a scoprire anche il recuperato reparto di pediatria rossini news continua a portarvi alla scoperta del nuovo dipartimento materno infantile dell'ospedale san salvatore di pesero in precedenza vi abbiamo documentato la riapertura del punto nascite dell'ospedale pesarese ripristinato a pieni giri da quattro mesi dipartimento che però contempla un altro settore molto importante quello del reparto pediatria con tutti i suoi servizi compreso quello ripristinato di pronto soccorso pediatrico un reparto che andiamo a scoprire grazie al supporto del primario lorenzo tartagni non avere un reparto di pediatria in una città come pesero poteva rappresentare forse un'anomalia un'anomalia che è chiaro che era stata determinata da circostanze che non potevano essere gestite in maniera diversa perché con l'emergenza covid negli anni scorsi effettivamente questi spazi erano indispensabili per accogliere i pazienti che erano affetti da patologie polmonari o altre patologie covid e per cui per forza di cose c'era stato un raggruppamento dei due reparti presso la pediatria di Fano ora per fortuna l'emergenza covid è finita e quindi ci siamo un po' in un certo senso riappropriati degli spazi che erano effettivamente già presenti e che abbiamo un po' rinnovato e resi nuovamente a misura di bambino. La situazione adesso dal punto di vista strutturale qui a Pesaro è senz'altro buona perché abbiamo una quantità di spazi, abbiamo delle zone dedicate ad ogni attività e soprattutto abbiamo anche la possibilità di avere una serie di locali adibiti ad ambulatori ambulatori che adesso quest'anno hanno ripreso la loro attività e che costituiscono anche un aiuto un'aiuto e un'integrazione a quello che è il territorio. Gli ambulatori sono l'ambulatorio di endocrinologia per quanto riguarda le problematiche della crescita, di gastroenterologia per tutto quello che riguarda le problematiche alimentari e anche di allergie alimentari dei bambini. L'ambulatorio nefrologico per quanto riguarda tutte le problematiche renali, l'ambulatorio neonatologico per vedere e poter ricontrollare i bambini che escono dai nostri nidi. Oltre a questo abbiamo anche un'attività di tipo ecografico che costituisce un po' un'ulteriore integrazione a quella che è la nostra attività clinica e anche questo di supporto al territorio come per esempio l'ecografia delle anche che devono fare tutti i bambini. Naturalmente tutto questo è un qualche cosa che adesso noi stiamo cercando di portare avanti con le nostre risorse, con quello che è il nostro personale che in questo momento è sufficiente a coprire le attività di tipo ambulatoriale e le attività di reparto. Ovviamente se ci fosse qualcuno in più saremmo anche più contenti in modo da riuscire ad avere una maggiore tranquillità nei turni in quanto effettivamente il personale pur di garantire in maniera veramente incommiabile tutte le attività che stiamo svolgendo a cominciare naturalmente dal pronto soccorso pediatrico, quindi tutte le attività di emergenza e urgenza, la sala parto, quindi tutto quello che è l'assistenza ai neonati, è comunque veramente attivo nel cercare di portare avanti tutto quello che può servire effettivamente ai bambini di Pesaro e della nostra provincia in generale. E dai reparti medici recuperati passiamo ai servizi sanitari che stentano a ripartire. E' il caso della Guardia Medica di Gabiccia e Mare che è chiusa dalle novembre del 2021 e che per il Partito Democratico del Territorio è un disservizio non più tollerabile. Vediamo. Ci troviamo a Gabiccia in via Berlinguer dove c'è la sede della Guardia Medica di Gabiccia e Mare, una delle otto guardie mediche che dal 2021 sono state chiuse per mancanza di servizi di sanità pubblica e per un provvedimento della Regione Marche. In questa mattinata gli esponenti del Partito Democratico, tra cui il sindaco Pascuzzi e i rappresentanti regionali Biancani e Vitri hanno organizzato una manifestazione di protesta per cercare di ripristinare il servizio pubblico della Guardia Medica. Da quando si è insediata questa nuova amministrazione regionale hanno vinto le elezioni per la promessa che soprattutto hanno vinto le elezioni per migliorare la sanità perché dicendo che noi del Partito Democratico sicuramente avremmo fatto qualche errore ma non è semplice, sulla sanità è un argomento molto importante. Però hanno vinto le elezioni per questo qui dicendo che miglioravano la sanità e da quando si sono insediati non abbiamo più la Guardia Medica. Abbiamo fatto già il presidio a luglio dell'anno scorso non ottenendo niente. Il nostro sindaco si è impegnato l'anno scorso a rimediare, a trovare delle persone disponibili per qualche giorno da fare la Guardia Medica ma purtroppo non può dipendere solamente dal sindaco ma questa sanità dipende solamente dalla regione. Dall'1 novembre siamo senza Guardia Medica, denunciamo questa carenza che è fondamentale in qualche modo da risolvere perché non si può andare avanti in questo sistema, non ci si può neanche nascondere dicendo che non ci sono i medici perché poi nella vicina Cattolica abbiamo all'ospedale una Guardia Medica presente anche a 24, 7 giorni su 7 quindi abbiamo il problema dell'ambulanza con un altro problema sentito perché l'ambulanza paradossalmente potrebbe arrivare in 5 minuti da Cattolica ma dobbiamo sperare che arrivi in 20, 25, 30, 35 minuti a seconda della gravità o da Pesaro o da Montecchio. Abbiamo chiesto al momento di ripristinare quella estiva quella turistica però non è sufficiente perché non si può andare avanti in questo modo chiedo e chiederemo anche come ha fatto il Comune di Montefeltro un accordo tra le due regioni proprio per sopperire alle emergenze, permettere ai cittadini di Gabice che siamo al confine con l'Emilia Romagna di poter usufruire dei servizi di emergenza della vicina Emilia Romagna. Abbiamo già rifatto un'interrogazione che verrà discussa alle prossime settimane e anche qui per chiedere almeno l'attivazione del servizio di Guardia Medica d'estate e della potenza d'estate però questa iniziativa non si limita ovviamente alla richiesta estiva ma noi riteniamo che sia importante riattivare la Guardia Medica tutti i giorni non solamente d'estate anche perché vuol dire andare ad alleggerire quelli che sono i pronto soccorsi, quello di Pesaro, ricordo che a Gabice qualsiasi cosa succede sia l'ambulanza sia se uno deve andare al pronto soccorso deve partire da Pesaro ci sono circa 6.000 abitanti, a Gabice fanno riferimento anche da Gradara quindi questa Guardia Medica non serve solamente a Gabice ma serve anche a Gradara e d'estate ci sono circa 500.000 turisti e anche tantissime persone che vengono ad abitare quindi gli abitanti passano da circa 6.000 a diverse centinaia di migliaia quindi riteniamo che sia veramente importante e ci auguriamo che la regione ci ascolti come è stato fatto già in altre parti ricordo che a Pesaro, a Vallefoglia ma in tanti altri punti almeno in parte il servizio di Guardia Medica è stato ripristinato a seguito delle nostre sollecizzazioni e dalla sanità cambiamo argomento perché a Pesaro questa mattina il sindaco Matteo Ricce e l'assessore Riccardo Pozzi hanno fatto visita alle cantiere delle vecchie palace di Viale dei Partigiani partito con l'ultimo appalto di lavori di un'opera pubblica è divenuta una lunga telenovela che ora si avvia al suo atto conclusivo la prossima settimana entreranno nelle vivi lavori che completeranno gli interventi strutturali di miglioramento sismico, verranno rifiniti infissi esterni e finiture interne saranno definiti singoli ambienti e sistemate dell'impiantistica di riscaldamento, aereazione ed elettrica interventi che dovrebbero consegnare il nuovo auditorium scavolini per Pesaro capitale della cultura 2024 ed ora passiamo ad una notizia d'ultima ora di cronaca perché c'è stato un lutto a Pesaro per la scomparsa all'età di 60 anni di Daniele Mei, storico fondatore del movimento Ultrasse della Visse Pesaro sulle finire degli anni 70 la notizia è rimbalzata nelle ultime ore fra i tifosi appassionati biancorossi che hanno sempre identificato in Emei un autentico faro della passione vissina Daniele Mei ha lavorato per 30 anni da infermiera all'ospedale San Salvatore di Pesaro e dalle 2016 combatteva una estrema battaglia contro la SLA e continuiamo sempre a parlare di cronaca perché uno e settantenne originario di Assisi è stato arrestato dai carabinieri sulla costa sarda eseguendo un ordine di carcerazione della procura della Repubblica di Pesaro l'uomo l'ha ricercato per riscontare una pena di 9 mesi e 20 giorni perché è ritenuto responsabile dei reati di rapine e lesioni commesse a Pesaro nelle 2019 l'uomo è stato trasferito nelle carcere cagliaritano di Utah Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo di politiche del lavoro perché questa mattina a Morciola di Vallefoglia si è tenuto un importante seminario divulgativo organizzato dalla Regione Marche per fare luce sulle tante opportunità offerte dai fondi europei Di opportunità e risorse si è parlato oggi nel punto informativo del lavoro di Vallefoglia La Regione Marche è in prima fila a presentare in questo tour di incontri sul territorio il programma Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 rivolto alla formazione di figure professionali capaci di rispondere alle esigenze del mercato lavorativo Di fronte a imprenditori e associazioni locali sono stati 4 gli assi di intervento argomentati 104 milioni di euro rivolti all'occupazione, 44 all'istruzione e formazione, 91 all'inclusione sociale e altri 44 milioni ai giovani Un totale di 296 milioni di euro intercettati dall'Europa ai quali si aggiungono quasi 50 milioni dalle risorse dello Stato Una somma importante orientata a sopperire le criticità occupazionali presenti nelle Marche Noi siamo qui a parlare di come intendiamo mettere in campo i fondi europei che abbiamo a disposizione per quello che riguarda la formazione per quello che riguarda anche l'aiuto all'impresa per le assunzioni, per le stabilizzazioni ma più che altro vogliamo ascoltare in particolar modo proprio le esigenze dell'impresa le esigenze che hanno loro nel coprire i posti di lavoro vacanti le professionalità che gli mancano come meglio da parte nostra indirizzare fondi per la formazione per portare avanti quelle figure che effettivamente servono all'impresa perché altrimenti si riesca di mettere in campo conorsi di formazione creando delle professionalità che però non sono quelle delle imprese necessitano È un incontro importante che abbiamo sollecitato anche come Unione dei Comuni all'assessore che era venuto a fare un sopaluogo perché qui a Morciola al punto di formazione del lavoro che dipende dal centro per l'impiego di Pesaro ci sono 5 laboratori per la formazione professionale e avere le opportunità dai fondi europei di formare le persone che servono alle imprese vuol dire creare lavoro, creare opportunità l'incontro con le imprese, l'incontro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori che cercano lavoro, le imprese offrono lavoro Sono i settori manufatturieri e imprenditoriali quelli con più carenza di personale sia a livello provinciale che regionale Quello che manca spesso nelle imprese sono dei tecnici Oggi le attività all'interno delle imprese non sono più quelle classiche del cosiddetto operaio che manualmente fa delle cose e ripetitivamente le fa sempre le stesse Oggi con la digitalizzazione, l'innalzamento professionale il modernamento delle strutture servono professionalità sempre più precise la meccatronica ad esempio noi puntiamo molto proprio sull'innovazione tecnologica e sull'accrescimento professionale di figure che magari sono anche già inserite nel mondo del lavoro ma non sono magari predisposte e adatte a come il lavoro sta evolvendo quindi c'è da formare chi non lavora ed è in cerca ma c'è da formare anche chi già lavora e che magari ha bisogno di un accrescimento professionale per adeguarsi alle nuove tecniche di lavorazione L'edilizia, molte aziende sono con ricambio generazionale fallite quindi c'è un problema di costruzione di abitazioni e di formazione anche di fare impresa di insegnare a fare l'impresa E come di consueto lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci il numero che vedete in sovrimpressione 370-366-7210 il nostro numero di Whatsapp dedicato il video inviatoci oggi dal nostro telespettatore documenta l'ennesimo avvistamento di cinghiali nell'area culinare dell'Aradizio in prossimità della statale adriatica fra Pesaro e Fano Nelle video si notano almeno 4 esemplari adulti assieme ad una dozzina di cuccioli La zona in questione non nuova la presenza di ungulati così come ad alcuni episodi di incidenti stradali causati dagli sconfinamenti stradali sulla carreggiata E aspettando il trasloco del mercato delle erbe previsto per il prossimo ottobre questo weekend l'iconico luogo del centro pesarese diventerà sede di un inedito festival Vediamo Ingresso gratuito Musica, street food e manufatti artigianali Questo weekend il mercato delle erbe apre le porte ad un evento chiamato La Bottega in cui si metterà in mostra tutta la creatività degli artigiani Un evento che per due giorni contribuirà all'arricchimento di un luogo destinato dal prossimo ottobre a tre anni di chiusura per i lavori di qualificazione del complesso San Domenico Per i cittadini sarà un'opportunità di scoprire fotografi, pittori, grafici, musicisti e tanti altri tra i sedici espositori che creeranno le loro opere live davanti ai visitatori Sabato La Bottega sarà aperta dalle 17 alle 21 mentre nella giornata di domenica dalle 10 alle 20 Questo sabato e questa domenica si propone questo evento che è diverso dai soliti mercatini è una cosa nuova per la città di Pesaro l'abbiamo già proposta a dicembre comunque è un evento quindi diciamo che l'attenzione è rivolta all'artigianato gli artigiani sono i protagonisti di questo evento ma c'è tutto un contorno il contorno ci saranno dei pittori quindi degli artisti, dei musicisti ci sarà modo di passare del tempo in questo spazio che è il Mercato delle Erbe quindi una location suggestiva di Pesaro dove si potrà proprio passare del tempo comprando manufatti originali passando del tempo ascoltando musica spizzicando qualcosa e niente quindi volevamo solo proporre una realtà che in Romagna esiste già e qui a Pesaro ancora non è molto conosciuta Sarà una novità per Pesaro questo evento perché sarà un contenitore di idee idee che saranno anche innovative perché in una location molto bella come Pesaro portare una novità a livello anche artistico e artigianale è fondamentale anche per un senso di novità e di crescita culturale perché dare spazio degli artisti e degli artigiani che diversamente non hanno magari possibilità dare questa specie di palcoscenico evento per loro è importante proprio per poter crescere anche artisticamente in più il pubblico che verrà e quindi sarà così partecipe di tutto quello che avverrà all'interno del mercato delle erbe che sarà fra l'altro una versione innovativa e diversa come non l'avete mai visto potrà apprezzare questi manufatti e anche gli artisti quadri e musicisti che ci saranno all'interno potete rimanere con noi apprezzare tutto e anche gustare cibo e manicharetti che verranno cotti e cucinati all'interno del mercato delle erbe con degli street food all'avanguardia e l'immagine che vi mostriamo ora documenta come alcuni razzi di segnalazione siano stati trovati nei cassonetti di Pesaro e finiti in discarica Marche Multiservizi attraverso una nota precisa che i razzi di segnalazione scaduti o in disuso devono essere restituiti dall'utilizzatore ai rivenditori che dovranno mettere a disposizione appositi i contenitori per la loro raccolta l'azienda ricorda inoltre che tali materiali vista la loro pericolosità non devono mai essere conferiti nei cassonetti stradali dedicati ai rifiuti urbani e dal lunedì 17 aprile chiude la strada della Contessa per lavori non più rimandabili al consolidamento della stabilità delle viadotto lavori che si protrarranno fino a Natale che mutileranno i collegamenti fra la provincia di Pesaro e quella di Perugia per il resto del 2023 la principale alternativa per gli automobilisti che provengono da Fano in direzione Gubbio-Perugia sarà quella di percorrere la strada Flaminia fino allo svincolo di Fossato di Vico per poi proseguire sulla statale di Vallefabbrica in direzione Perugia e il comune di Vallefoglia ha iniziato i lavori di carotaggio e di georadar per le indasini archeologiche finalizzate al progetto di completamento dei lavori per la ristrutturazione e il consolidamento delle mura castellane di Colbordolo i lavori sono finanziati con i fondi di rigenerazione urbana per un importo di 900.000 euro che permetterà di ultimare l'intera cinta muraria delle Castello e parliamo ora di teatro con un nuovo appuntamento la piccola ribalta di Pesaro che nella sua sede di Via dell'Acquedotto porterà in escena il dubbio drammi ineduati di John, Patrick e Shanley per l'adattamento e resia di Bisser e Genga spettacoli domani alle 21 e domenica 16 aprile alle ore 17 e quello che vi mostriamo ora è il manifesto della 59esima edizione della mostra internazionale delle Nuovo Cinema che si terrà a Pesaro dal 17 alle 24 giugno in attesa di scoprire gli ospiti l'artista Luca Lumaca ha firmato la locandina e la sigla che ora vi mostriamo e dopo lo scorso weekend con Renato Zero un altro grande appuntamento riempirà la Vitrifrigo Arena domani sera 15 aprile quando a salire sulle palcoscenico pesarese sarà Checco Zalone il popolare attore e artista comico torna nei teatri e nei palasporti italiani dopo 11 anni di assenza con il divertente spettacolo Amore più Iva un one man show totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musiche e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di Zalone e a Fano, a giugno, arriva la rassegna Giovani in Festival un appuntamento alla rocca malatestiana che cerca la partecipazione di giovani talenti La Galleria Seperdotè di Doro Catalani cerca giovani musicisti, pittori, cantanti, scultori ballerini, fotografi, attori poeti, scrittori, grafici o videomaker per giovani in Festival il più grande spettacolo siamo noi rassegna che si terrà il 3-4 giugno alla rocca malatestiana di Fano un festival che nasce dall'idea di Doro Catalani di sostenere la creatività giovanile offrendo supporto e visibilità alle nuove generazioni creando uno spazio e un'occasione in cui consentire loro di mettersi in gioco e farsi conoscere l'invito a coinvolgimento è rivolto principalmente ma non solo alle diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola con una proposta gratuita per i giovani per far emergere i loro talenti e la loro creatività Gli asperanti partecipanti potranno aderire entro sabato 20 maggio contattando il 338 3051082 o il 338 3603584 E con questa ultima notizia termina qua il nostro telegiornale di oggi però prima di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo la programmazione e gli appuntamenti di questa sera alle ore 21.20 potrete vedere la prima puntata di Cosmo Life Cosmo Life è un'azienda di Rio Salso che si occupa delle benessere della persona avremo 4 appuntamenti per 4 venerdì consecutivi sempre alle ore 21.20 quella di oggi è la prima puntata e nello specifico oltre ad una parte introduttiva dell'azienda che ci spiega un po' chi è e che cosa fanno avremo, si parlerà appunto del dispositivo Big Mama Appuntamento poi come di consueto a domani mattina con la rassegna stampa del sabato alle ore 7.20 saremo in diretta saremo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook vediamo anche le repliche alle ore 8.20 12.30, 14.18 e come sempre vi ricordo che se volete avere Rossini TV vicino a te sempre di più potete scaricare la nostra app è disponibile gratuitamente sia per smartphone Android sia per dispositivi Apple e la potete scaricare per avere sempre Rossini TV a portata di mano ed è davvero tutto per questa edizione di Rossini News vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serato un buon weekend l'informazione con Rossini News torna lunedì prossimo vi lascio alle previsioni del meteo